Il capitano è chiamato a ogni volta ...da trappeggio ...non so perché non lo è ...e allora quello non è un trampolino è un trappeggio lassù ...non è passese, lo è passese dove andrà ...non è passato 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 ...dici il suo giro ...vai ...voppy le radio ... fatele sudisce ...e la vuoi mangiare? Sì ...vieni ...